Il Leader Training di Yoga della Risata, la formazione al Leader di Yoga della Risata, è il corso che permette di condurre incontri, gruppi di Yoga della Risata. Sono due giorni di grandissima trasformazione dove si alternano parti teoriche a parti pratiche, dove si approfondiscono moltissimi ambiti di questa stupenda disciplina. Vedremo insieme come si conduce una sessione di Yoga della Risata, qual è la struttura tipo, quali sono le sue varianti, dove puoi inserire i tuoi momenti di creatività all'interno di qualcosa che è fisso e stabile. Inoltre approfondiamo come aprire un Club della Risata, quindi come accompagnare gruppi di adulti nella pratica di Yoga della Risata, il Club della Risata è la cellula base del movimento. E approfondiamo anche come portare lo Yoga della Risata in diversi contesti, in diverse applicazioni come l'azienda, come gli anziani, quindi in casa di riposo, come con i bambini, nelle scuole o anche agli insegnanti. Quindi alla parte teorica si abbinano anche delle parti pratiche, ben cinque sessioni, tre di quelle tipo con gli adulti, quindi tre delle classiche sessioni che si possono tenere ad un Club della Risata, una di quelle tipo con i bambini, una di quelle tipo con gli anziani, per vedere come la struttura canonica della sessione cambia in base alle varie applicazioni. E poi c'è una parte molto molto importante, per me forse la più importante di tutti, che avviene la domenica mattina. La domenica mattina, ad inizio giornata, c'è una parte dedicata alla sfida dei 40 giorni. La sfida dei 40 giorni è un momento molto importante del training, perché il corso non finisce la domenica, ma inizia, io dico sempre il lunedì, con questa sfida particolare durante la quale ci mettiamo alla prova, nutriamo la risata che abbiamo liberato durante il weekend e ci impegniamo per almeno 40 giorni a ridere tutti i giorni, quotidianamente, per dieci minuti di seguito. Questo ci rende più capaci di portare la risata nella nostra vita, anche nei momenti di difficoltà, proprio perché ci alleniamo a farlo. Diventiamo abili a innescare la nostra risata anche in momenti di difficoltà, cioè quando vogliamo trasformare qualcosa che non ci piace poi così tanto, attingendo alle nostre energie profonde. Gli obiettivi fondamentali del corso per me sono essenzialmente due. Il primo, che tutti i partecipanti alla fine del corso abbiano la risata libera, fluida, cristallina, che si siano riconnesse alla propria risata originaria, al proprio potere. Due, che comprendano com'è la struttura della sessione, quali sono le varianti, che abbiano chiaro proprio il percorso di apertura, di massima profondità attraverso la meditazione della risata e le tre possibili chiusure di una sessione. Quindi che abbiano chiaro come portare poi la risata agli altri. Poi il corso con me è anche corredato, oltre al manuale ufficiale e poi al certificato di leader di yoga della risata, di 13 mappe mentali. Le mappe mentali sono uno strumento che ho ideato per sintetizzare le parti teoriche, per sintetizzare particolari scalette, quella tipo con gli anziani, quella tipo con i bambini, per approfondire maggiormente quello che a volte nel manuale non si trova poi così in profondità. Allora metto a disposizione tantissimi approfondimenti, video, tutorial, file, documenti, perché ci tengo veramente tanto che chi esca dal mio leader training sia in grado di comunicare, condividere, accompagnare le persone nella profonda esperienza di trasformazione che è lo yoga della risata. Il corso è un intensivo in cui si muove veramente tantissime energie, in cui la risata si sblocca, ci riappropriamo della nostra risata originaria. Il corso è puro empowerment, da potere, riconnette con la nostra parte che sta a ridere, che sta a gioire, con il nostro bambino interiore, che diventa finalmente un alleato e non ci mette più i bastoni tra le ruote quando vogliamo realizzare qualcosa di veramente importante. Il corso è ricordato da chi lo frequenta spesso come vero e proprio spartiacque. Si ricorda a distanza di anni la data esatta del leader training, il giorno preciso, perché qualcosa poi dal corso in poi cambia, cambia in maniera profonda. Ci riconnettiamo alla nostra energia, la mettiamo in atto come un motore che apre delle possibilità alla risata che si libera. E se quello che ti sto dicendo ti risuona, se vuoi portare più risate innanzitutto nella tua vita e poi a cascata nelle vite degli altri, ti invito ad approfondire questo corso perché ne vale veramente la gioia, è veramente magico. Io sono Lara Lucaccioni, principale formatrice italiana di yoga della risata, master trainer e è un privilegio per me, ma anche una grande responsabilità, accompagnarti in questo viaggio profondissimo a scoprire il potere della tua risata incondizionata. Ti aspetto al corso! Ciao!